Ad agosto è arrivato come un tuno a ciel sereno la comunicazione che noi ex dipendenti Almaviva saremmo stati messi in cassa integrazione, comunque quello che poi ne conseguiva, perché Covician si era giudicata all'appalto del Customer Care di Ita. Abbiamo lottato, ci abbiamo rimesso tanto, sia in termini economici che in termini di sanità mentale, e siamo riusciti a strappare un accordo che avrebbe tutelato tutti i dipendenti, saremmo passati in quattro scaglioni. Il 31 marzo abbiamo ricevuto una PEC nella quale Covician ci comunicava che l'accordo commerciale sottoscritto con Ita non andava più bene e che quindi dal 1 di maggio la commessa non sarebbe più stata presente su Covician. Questa cosa è inaccettabile, noi non siamo il giocattolo che dopo sei mesi non ti piace più e lo butti, non sappiamo chi. Perché ad oggi notizie ufficiali non ne abbiamo. Noi siamo 543 famiglie, 550 famiglie che non hanno più il lavoro di passaggio perché noi abbiamo fatto il nostro lavoro, vista la situazione lavorativa siciliana, che portiamo avanti le nostre famiglie con questo lavoro. Questa situazione deve terminare, abbiamo bisogno di tranquillità economica.